La semplificazione introdotta dalle ordinanze firmate dal commissario alla ricostruzione post-sisma 2016 Giovanni Legnini stanno portando ad un netto cambio di passo nelle pratiche. Nei primi quattro mesi del 2021 in tutto il cratere sono state approvate circa 2.600 richieste di contributo. Per comprendere quale sia stata l'accelerazione basta ricordare che quelle approvate in tutto il 2020 erano state circa 2.700. La forte accelerazione della ricostruzione è anche confermata dai dati della Cassa Depositi e Prestiti che gestisce i fondi per la ricostruzione attraverso le banche convenzionate. 3.518 sono le domande complessivamente arrivate. Tra queste 740 ad oggi non sono istruibili perché sono quelle in attesa di completamento da parte dei tecnici istruttori che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'ordinanza 108. Quindi completare le domande presentate entro il 30 novembre in forma semplificata entro la fine di questo mese. Delle restanti 2.778, 1.181 sono state definite attraverso 833 dei crediti di concessione, stiamo parlando della data del 30 aprile, 337 rigetti e 11 sono le procedure in gara. La restante parte è così suddivisa. 658 sono in istruttoria presso l'ufficio e 939 sono in attesa o del parere di conformità urbanistica ed edilizia del comune competente, in questo caso sono 521 su 939, oppure sono in attesa di integrazione documentale all'esito della pre-istruttoria dell'ufficio. Cioè sono 418 pratiche su 939 che sono presso i professionisti incaricati. Questi rappresentano quindi il 33,8% è oggi in attesa di integrazione e quindi non può essere processata per fattori esogeni. Il 23,7% è in fase di istruttoria, il 42,5% è stato definito. Con le ultime ordinanze firmate dal commissario si è accelerato di molto anche l'iter? Le ultime ordinanze sono ordinanze speciali che riguardano il patrimonio pubblico del comune di Teramo, una e l'altra invece è del patrimonio abitativo pubblico dell'Ater di Teramo. Quindi ci sarà un'accelerazione per le procedure pubbliche. La privata chiaramente ormai ha la definizione completa di tutti i propri strumenti primari e secondari. Siamo in attesa entro giugno del testo unico che sarà un po' un riepilogo di tutte le numerose ordinanze fino ad oggi intervenute.